Sì, queste sono le radici. Che cos'è? Statua della libertà o uomo di nere. No. Papi, che cos'è la legge marziale? Ho paura. Come sappiamo che arrivano? Arrivano. Pronta? Johnny! Seguitemi. Via, su, via! Andiamo! Jerry! È una cosa mondiale. C'è chi se la cava meglio di noi. Abbiamo perso l'Ace Coast. Mosca è ancora al buio. La vita come la conosciamo finirà entro 90 giorni. Sta a noi far sì che non accada. Non lascio la mia famiglia. Non finga che la sua famiglia sia isente. Qui si parla della fine dell'umanità. Non voglio lasciarvi, ma devo andare. le difenderò io. Hanno inviato un memo da questa installazione. Che in patria nessuno si è preso il disturbo di leggere. Potendo entrare in Russia, da dove comincerei? La Russia è un buco nero. Voglio risposte. Le armi sono a mezza misura. Stai con la CIA? La CIA non sta con me. Karen! C'è rimasto qualcosa là fuori. Se sapessimo dov'è cominciata, potremmo fermarla. Hanno una debolezza. Ogni essere umano che salviamo è uno in meno da combattere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.